Dobbiamo spiegare il grosso equivoco che è intercorso quando domenica scorsa la coppia Angelina e Nicola si sono messi a ridere, ma non era una irrisione nei confronti di Berlusca, non era una presa di giro, era semplicemente che è venuta loro a mente la varzelletta dell'amico Berlusca che aveva raccontato poco prima in un consesso a tre, nessuno ne ha parlato ma è la verità, lui, Nicola e l'Angelona avevano avuto dei chiarimenti e il nostro benamato Presidente del Consiglio aveva ben spiegato e ben ottenuto conferma e fiducia e poi a coronamento di questo consesso a tre è raccontato l'ennesima varzelletta e questi si sono scompisciati dalle risate e questa è stata la chiusura del convegno a tre. Poi quando di fronte alle telecamere un giornalista ha chiesto qualcosa c'è stato un equivoco, semplicemente che al nome di Berlusconi i due Angelina e Nicola si sono ricordati di questa favolosa irresistibile varzelletta e sono scompiati a ridere, ma niente che riguardasse i programmi, l'Italia, gli italiani, nulla, lui ha convinto tutti e per forza con la sua capacità di raccontare le bischerate o no.